Il disegno di legge di bilancio approvato dal Consiglio dei Ministri contiene una serie di norme che rendono più stringenti le condizioni per ottenere e mantenere il reddito di cittadinanza. Del resto il governo Draghi con questo strumento non è mai stato tenero. Condivido il principio del reddito di cittadinanza, ma bisogna che abbia un'applicazione che si estende da abusi e non sia da intraccio al funzionamento del mercato del lavoro, ha spiegato il Presidente del Consiglio Mario Draghi presentando le nuove regole della misura. È chiaro che il sistema precedente non ha funzionato, è stato un disincentivo al funzionamento del mercato del lavoro, almeno in bianco, non in nero. Il Premier ha anche garantito che d'ora in poi i controlli saranno diversi e molto più precisi. La misura è stata rifinanziata ma con delle novità dunque. Ad esempio c'è una stretta sui controlli e viene introdotto un meccanismo per favorire la ricerca di un nuovo lavoro da parte di chi percepisce l'agevolazione. Inoltre non si avrà più diritto ai soldi dopo il rifiuto di due offerte di lavoro e dopo un semestre. Per gli occupabili il sostegno subirà un taglio di 5 euro al mese. Il taglio non riguarda però i nuclei familiari con bimbi sotto i 3 anni o con disabili gravi o non autosufficienti, né per chi riceve meno di 300 euro. Prevista anche una stretta sui controlli e sui reati che impediscono di accedere alla misura. Obiettivi di adesso ridurre gli abusi, rafforzando i controlli e prosciugando il bacino dei beneficiari occupabili che prendono il sussidio pur sottraendosi alle attività lavorative. In questo modo il Governo tenta di fermare la continua espansione dei titolari del sussidio, che anche in conseguenza della crisi pandemica sono stati nel 2021 circa 1,7 milioni di famiglie. Hanno preso il sussidio per almeno un mese, per un totale di 3,8 milioni di beneficiari, il che ha fatto salire la spesa a quasi 9 miliardi l'anno. In Sicilia 700.000 persone ricevono l'assegno. È un pacchetto che vale due punti percentuali di prodotto interno lordo. Come si legge sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, si tratta di una misura di politica attiva del lavoro e di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale e di un sostegno economico a integrazione dei redditi familiari. Tale misura è però sostanzialmente un patto che viene stipulato tra lo Stato e il disoccupato. Lo Stato mette a disposizione della persona senza lavoro degli aiuti economici in cambio della sua partecipazione a un processo di reinserimento lavorativo e sociale. di cui i beneficiari sono protagonisti sottoscrivendo appunto un patto per il lavoro o un patto per l'inclusione sociale. La misura è entrata in vigore dal 6 marzo 2019, come stabilito dal DL4 2019. Chi fa richiesta del reddito di cittadinanza è obbligato a seguire un percorso personalizzato di inserimento lavorativo e di inclusione sociale. Grazie. Grazie.